Curiosità artistico-letterare. Il vincitore di questa settimana è Jan Vermeer, pittore olandese, celebra i più per il suo quadro Ragazza conturbante o anche conosciuta Ragazza con l'orecchino di perla. Vediamo quindi delle curiosità su di lui. In realtà sappiamo davvero molto poco sulla vita di Vermeer perché abbiamo avuto davvero pochi documenti che sondavano la sua anima e ci permettevano di scoprire curiosità e sfumature della sua vita. Forse anche per questo, per questo suo allone di mistero che diventò così celebre e così conosciuto. Comunque quello che sappiamo è che Jan arrivò da una famiglia medio-bassa protestante. Il padre era un mercante d'arte e un tessitore di caffa, un tessuto che compare molto spesso nelle opere del figlio. Ad un certo punto nel 1641 il padre comprò una locanda che iniziò a gestire con la moglie e che lasciò poi in eredita al figlio con anche tantissimi debiti. Jan ebbe solo una sorella più grande di 12 anni e forse anche per questo motivo quando nel 1653 sposò una donna cattolica decise di fare con lei ben 15 figli, 15 non pochi. Comunque purtroppo a causa della famiglia numerosa e dei numerosi debiti morì molto giovane, schiacciato dalla crisi finanziaria a poco più che quarantenne. Insomma una fine non bellissima.